No border, no nation, stop deportation! No border, no nation, stop deportation! A pochi centimetri dal confine con la Francia è la proposta di un passaporto europeo, un documento che permetta ai migranti in arrivo su territorio europeo di circolare all'interno dei paesi liberamente e di essere anche identificati con questo tipo di documenti. La manifestazione di oggi ha visto la partecipazione di circa una sessantina di militanti provenienti da diverse parti d'Italia, ma è soltanto un piccolo antipasto di quello che accadrà domani. Lo hanno detto loro stessi, sono in arrivo migliaia di manifestanti non solo da tutta Italia ma anche da tutta Europa. Ci è stato riferito che è in arrivo anche un pullman, diversi pullman, diverse auto anche dalla Spagna. L'appuntamento per domani è fissato alle 14 circa per poi partire intorno alle 16 dalla zona di Via Tenda e muoversi poi verso il centro della città. Una manifestazione anche quella pacifica, ci è stato garantito che non ci saranno infiltrazioni da parte di Facinorosi e quindi non dovrebbero esserci problemi per la città di Ventimiglia. Questo è tutto, questo è quanto è successo oggi al confine, una manifestazione simbolica. Minifestanti avrebbero voluto passare il confine ma alle nostre spalle la gendarmeria ha allestito veramente una barriera umana e di mezzi con anche le reti e gendarmi schierati anche alcuni con i mitra. La manifestazione, durata poco meno di un'ora, si è conclusa chiedendo a tutti di partecipare alla manifestazione di domani, dalle 14 alle gianchette a Ventimiglia, come evidenziato da Giacomo Mattioli, esponente dell'associazione Progetto 20K. Oggi siamo venuti su questo confine, in frontiera bassa, per far emergere le contraddizioni. Come vedete, appena un numero di persone si è presentato, il confine si è sigillato. Noi siamo venuti con un permesso di soggiorno europeo che pensiamo che sia l'unico documento politico che debba esistere in Europa per far sì che tutte e tutti possano liberamente circolare. Adesso abbiamo deciso di fare un'azione di disobbedienza. Per un determinato tempo abbiamo bloccato merce capitali che sono gli unici soggetti che attualmente, materiali, possono circolare in questa Europa. Questa situazione non la possiamo più accettare. Gli stessi diritti che vengono concessi a merce capitali devono essere concessi a donne, uomini e bambini. Quindi vi invitiamo tutti quanti, domani, a Ventimiglia Città Aperta, concentramento alle due e partiremo per un corteo cittadino e pacifico, comunicativo. Vi ha stupito il concentramento di forze sia della polizia italiana che francese? No, non ci ha stupito perché questo confine è caratterizzato dall'ingente numero di forze dell'ordine. Adesso siete presenti in tanti giornalisti, ma una situazione del genere si vive 365 giorni l'anno a Ventimiglia. Ricordiamoci che la città è costantemente pattugliata, partono deportazioni settimanali di migranti con i bus di ripiere da trasporti e questo fa sì che serva un apparato repressivo in costante funzione. Questa non è solo la dimostrazione. Possiamo notare come i francesi per un atto simbolico di disobbedienza si siano totalmente sigillati. Però ci terrei a sottolineare che questa peculiarità non è solo francese, questa è una peculiarità delle politiche europee. Attualmente l'Europa sta diventando sempre più una fortezza e questa è esattamente l'espressione di questa Europa fortezza. Allora è dure contro Salvini, Macron, ma anche contro il PD e l'amministrazione di Ventimiglia per alcune ordinanze? Sì, Yoculano è stato responsabile delle ordinanze di cui in questi giorni si è parlato. Era vietato dare cibo e acqua ai migranti, era un semplice gesto di solidarietà. E adesso noi lo possiamo dire, noi quell'ordinanza l'abbiamo violata perché non possiamo accettare che ci venga negato di fare un semplice gesto di solidarietà. Non possiamo accettare che anche il più semplice gesto di umanità venga negato. Il PD è responsabile del decreto Minniti Orlando, un'altra legge che è di destra e una legge che ha portato un peggioramento della situazione per i migranti in questo paese. Oggi avreste voluto passare il confine, non ce l'avete fatta, ve l'hanno impedito? Oggi avremmo voluto passare il confine e ci è stato impedito. Ma questo, il confine non l'avremmo comunque passato perché il confine lo vogliamo passare solo quando le nostre sorelle, i nostri fratelli migranti potranno essere insieme a noi. Io adesso da bianco quel confine lo posso passare, ma una persona che ha la pelle scura, che viene da un altro paese, questo diritto che a me è concesso è negato. Quindi questi diritti devono essere allargati a tutti quanti. Il permesso di soggiorno europeo. Pensiamo che sia un documento che debba permettere a tutti quanti la libera circolazione all'interno dell'Europa. Attualmente non esiste e pensiamo che possa, non pensiamo sia la soluzione finale, ma pensiamo che possa migliorare gli attuali blocchi che ci sono su varie frontiere. I blocchi ci sono qui, ci sono a Bardonecchia, ci sono a Como e sistematicamente si ripetono. Domani saremo tantissimi, perché non ci saranno solo movimenti sociali, non ci saranno solo attivisti, ma ci saranno associazioni, ci saranno singoli. Partiranno pullman da tutta Italia per venire qui, ci sarà una carovana che sarà in viaggio in queste ore per arrivare dalla Spagna, ci saranno ragazzi e ragazze francesi che verranno qui a darci sostegno. L'amministrazione dice che non ha nulla contro la manifestazione, era la data che era sbagliata. No, l'amministrazione non ha detto esattamente questa parola, l'amministrazione ha detto di andare a manifestare in Francia, perché secondo loro la Francia è l'unica responsabile della chiusura del confine. Noi non la pensiamo così. L'amministrazione comunale di Ventimiglia ha un bel pezzo di responsabilità per le ordinanze che sono state effettuate, per la posizione in cui è stato posizionato il campo della Croce Rossa. Questo non significa porsi in contrapposizione con la cittadina di Ventimiglia e con la popolazione di Ventimiglia. Come progetto 20K noi siamo presenti ormai da tre anni, stiamo sviluppando un rapporto con questa città, stiamo imparando a conoscerne i bisogni e le necessità. Quindi l'unica nostra contestazione va alla politica che amministra questa città. Avete paura che qualcuno possa infiltrarsi domani in questa manifestazione e andare ad intaccare questo carattere pacifico di cui parlate? No, non abbiamo assolutamente paura di ciò perché il percorso è studiato per far sì che il corteo sia totalmente autotutelato. Specialmente ci sono state delle assemblee internazionali di costruzione in cui abbiamo parlato singolarmente con tutte le associazioni e le realtà che sono venute. Questo fa sì che il percorso è stato esattamente come noi l'abbiamo costruito, tutti assieme, non solo 20K. Il pericolo che ci siano infiltrati è inesistente, quindi vi invito tutti quanti domani alle 2 a 20 miglia via Tenda 5. L'appuntamento è per domani dalle 16 nella zona di via Tenda a 20 miglia su sanremonews.it, le foto, i video, le interviste e tutti gli approfondimenti su questa e sulla manifestazione di domani. Grazie.